Un paio d'anni fa ho avuto il piacere di presiedere una delle sessioni della conferenza a San Marino dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, in cui si è pubblicizzata la cifra del mancato guadagno del turismo mondiale per via dell'ineccessibilità dei luoghi del turismo e ovviamente non solo alcuni luoghi ma si tratta anche dell'intera catena e questo mancato guadagno si stima in 800 miliardi all'anno, una buona fetta ovviamente toccherebbe a questo paese, laddove si migliora l'ambiente per le persone con disabilità, ovviamente non lo stiamo facendo a compatimenti stagni, rendendo possibile una vita migliore per le persone con disabilità rendiamo più facile, più gradevole per tutti quanti, la vita, il circolare, il visitare, il fruire di luoghi della cultura e bisogna anche ricordarci che in questo binomio fra cultura e turismo c'è un fattore molto importante, ossia noi con la popolazione che sta invecchiando andiamo incontro, come parlerò, come dirò dopo nel mio intervento, andiamo incontro ad una situazione di un percentuale molto maggiore di persone anziane che dipendono da un percentuale sempre in minore di persone nella società che sono in età lavorativa. Queste persone dovranno pagare le tasse per pagare le pensioni, dovranno fornire le assistenze e ovviamente ad un certo punto il quadro comincia a scricchiolare, allora dobbiamo utilizzare la finestra di opportunità che abbiamo adesso per rendere più utilizzabile, più facilmente utilizzabile e accessibile l'ambiente artificiale per le persone che stanno invecchiando in modo che possono vivere una vita autonoma più a lungo. Questo diventa non soltanto utile, ma diventa anche un punto gradevole per le persone più anziane, fra cui mi conto anch'io, perché più si ha una dialettica e un dialogo culturale e più c'è una probabilità di un mantenimento di uno stato di soddisfazione e di contentezza della vita e meno incide l'arrivo, l'avanzarsi degli acciacchi, delle difficoltà della vecchiaia che derivano in grande parte anche semplicemente dalla scontentezza, ovviamente poi quando ci sono patologie accertate è un altro discorso, però noi dobbiamo pensare di diminuire coscientemente la spesa sanitaria che deriva unicamente dal fattore isolamento, dal fattore scontentezza nelle persone più anziane e questo lo possiamo fare molto bene se incoraggiamo un maggior utilizzo e in questo senso valorizzare il patrimonio culturale. È una tematica di grandissima importanza quest'anno che è l'anno europeo.